...di Bonetti su Salsano, Vialli si fa parare il possibile resistito che il Napoli, che superando rapidamente una certa difficoltà a riannodare i fili del proprio gioco, ma schiacciato nella sua anza di Savoldi, Copparoni riesce di nuovo a ritardare il pareggio. Ma questo ha... Cantarutti. ...al ventunesimo, Merlo lancia l'esorati e Copparoni con un balzo efficace salva. Trentunesimo, corner per la Juve, testa di Bettega e gran volo di Copparoni che salva. ...accusato più del previsto il primo sole primaverile del 76. ...tira Pruzzo, ma ancora una volta la parata... ...cretate dall'arbitro Redini. La Roma, che è attaccato in prevalenza, ha dovuto rinunciare... ...Laudrup, Copparoni che manda in corner. ...che al tiro. Soltanto nel finale del primo tempo il Torino gli chiede come abbia fatto a sbagliare. ...e sconde così. Bagni, mediano a sostegno, porta a passeggio... ...e che consente a Copparoni di deviare il pallone con la punta... ...el secco sinistro ed il portiere vola ancora e salva. ...ora il Pisa Conchi che non riesce... ...continua ad attaccare, quelle che vedete sono le occasioni più clam... ...secondo lo stesso Platini si fa vedere, ma Copparoni è attento. ...se domenica prossima il Bologna non va oltre il pareggio d'Ace... ...di congedare dalla loro folla con una vittoria che è giunta a conclusione di un... ...di Perri la palla a Vignola, gran sinistro e Copparoni vola a deviare. Grazie a tutti.